Grazie a tutti Questa sera i due relatori, lo sapete, è il dottor Cilindro, il quale è un magistrato presidente di sezione della Cassazione, è stato anche presidente del Tribunale di Lago Negro, ma a noi interessa invece la seconda attività che è sempre svolta, quella di giornalista pubblicista che ha collaborato con Mattino, ha collaborato con il Roma e ha diretto il periodico, il nuovo studio, è autore di molti saggi e di molti romanzi, venne cito qualcuno giusto per avere l'idea. La Trastola, che è un'opera che ha vinto il premio nel 1987, il premio Coplonti, croniche napoletane, i compagnoni, Castel Capuato, Napoli al tempo di Giovanni Battista Vigo, che è un ottimo saggio storico, della penisola Sorrendino nel 2004, il palazzo Sini di Nova, il tasolo di Bosco Reale, avvocato alla corte di Re Borbone, il quadri del rinascimento, che l'ha fatto in collaborazione con Michele Brisco, e Peter Moore, uno degli ultimi che ha scritto, è stato una biografia, è un dramma di Isabella Borra, che è tra i lavori che, a mio avviso, tra i migliori che io abbia mai letto, e poi ne ho letto. L'architetto Francesco Canestrini è dirigente del Ministero dei Beni Culturali, ed è sovrintendente della Basilicata. È stato curatore del Parco del Giardino Inglese, da una legge di Caserta, dal 1997 al 2012. Dal 2012 al 2015 è sovrintendente dei beni architettonici e paesistici della Basilicata, sovrintendente di Inderim per i beni architettonici e paesaggistici delle province di Lecce, Brindisi e Taranto. Ha partecipato alla comunità operativa e universitaria per la verifica di edifici raggiati, è autore di restauro di edifici storici come funzionario della sovrintendenza, è autore dell'inserimento del complesso d'efficienza di Caserta nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. A tal fine è stato anche referente per far nominare l'UNESCO patrimonio mondiale dell'umanità. Ha redatto il piano paesistico dell'area casertana circostante la reggia, è autore di numerosi articoli, pubblicazioni, mostre riguardanti restauro di monumenti, del potere del paesaggio, in particolare di salvaguardi, per restauro dei giardini storici. Ha partecipato a convegni nazionali e internazionali, per l'associazione Italia Nostra, di cui è stato consigliere nazionale dal 1993 al 2003, ha colato la mosso dei centri storici tenutosi in occasione del convegno dei centri storici della città contemporanea a Napoli nel dicembre del 25. ha al suo attivo dei libri di pubblicazioni scientifici e gliele risparmiamo. Prenderà la parola al sindaco, dopodiché il presidente Cirillo, e concluderà con gli indipendenti il sabretto a me. Poi ci saranno i saluti di mia moglie e vi preghiamo dopo di intervenire, di interloquire con noi in modo che possiamo naturalmente e sciolinare ancora meglio gli argomenti e spiegare qualcosa che magari non è stata chiara nei nostri interventi. Grazie. Buonasera a tutti, benvenuti, saluto a tutti voi, saluto in particolare, porgo a loro, faccio anche i saluti dell'intera amministrazione comunale che rappresento. Noto che c'è un problema di acustica, dobbiamo in qualche modo sistemarlo perché c'è una difficoltà, quindi cercheremo di farci capire. Quando Peppino qualche anno fa mi disse che stava continuando a raccogliere il materiale per la stesura di un libro su Trecchi, io in un momento immediatamente mi sia a disposizione, e come amministratore ma soprattutto come cittadino di questo paese perché io ho sempre ritenuto che una comunità che prima di tutto conosce la propria storia e noi per quando abbiamo avuto la Conde che ci sono tramandata, abbiamo avuto anche il libro di Schittini, però non c'era mai stato una qualcosa di concreto, una ricerca fatta con dati storici. E quindi a Peppino io approvai subito quel suo progetto e gli dissi che è in vista a disposizione come amministratore per qualsiasi cosa che non fosse le possibilità dell'amministrazione comunale. Peppino ha lavorato, ha lavorato tanto, da qualche tempo adesso ci siamo incontrati pure di più assiduamente per vedere il tipo di lavoro che ha fatto, ha fatto veramente un lavoro di grande pregio e io ritengo che sia molto utile ad un'amministrazione comunale avere un libro sulla storia della propria comunità, non solo perché conosciamo tutti le nostre radici, perché cerchiamo di conoscere meglio le persone che ci sono state e forse ci diamo e ci spieghiamo meglio pure alcune cose che facciamo per dire, giusto, per fare alcuni riferimenti. Se noi consideriamo che è un paese prevalentemente di piccole imprese, di piccoli imprenditori, se andiamo a vedere nella storia, vediamo poi pure il fatto della grande emigrazione che c'è stata, i trechinesi nel mondo, là dove sono stati, sono stati degli ottimi imprenditori. Quindi è qua, giusto per rilasciarmi a quello che sarà poi, penso, la discussione che si farà stasera sull'emigrazione, ciò che è stato fatto, ecco lo studio e le ricette che è stato fatto sulle emigrazioni, sui trechinesi, sul cecchie, su questo paese, su questa città che è stata fondata da trechinesi. Quindi dicevo che, ecco, il sapere da dove veniamo forse è meglio riusciamo a costruire pure ciò che sarebbe. E se in quest'area, questo comune, il nostro comune, nell'ambito dell'unione dei comuni, cerca, ecco, di essere protagonista per quanto riguarda pure, ecco, le attività turistiche, non possiamo fare turismo se alla gente che viene qua non diciamo cosa siamo, cosa siamo stati, da dove veniamo. Quindi questo testo per noi, questo lavoro che ha fatto Peppino sarà sicuramente utile a tutti quanti noi. Il lavoro che ha fatto Peppino, io ritengo, se me lo permette Peppino, nei miei tanti anni di amministratore di questo comune, ritengo che sia l'opera pubblica più bella che sia stata realizzata, perché in questo modo insieme anche al lavoro fatto da Leandro, da Leandro Enrico, con il suo libro su Trecchina e sul dialetto picchinese, mi permetto di dire una cosa in merito al libro di Andro Enrico. L'altro giorno ha telefonato al comune un giornalista di Milano che scrive per dei settimanali. Dopo il referendum c'è stato tutto quanto un dibattito rispetto all'affluenza, chi ha votato, chi non ha votato, e nel dibattito, nel dibattito che c'è stato, un parlamentare calabrese ha dato del Ciaune ad un suo collega del Nord. È nata una discussione rispetto a questo termine che è stato utilizzato, Ciaune, perché si pensava fosse un termine spregiativo, un'offesa, qualcosa. Un giornalista ha fatto la ricerca di questo termine ed è risultato che il termine Ciaune è un termine del dialetto picchinese. Hanno chiamato al comune e questo giornalista poi si è messo in contatto con me. Adesso faranno anche un articolo, immagino su uno dei settimanali addirittura, addirittura nazionale. Perché voleva sapere il livello dell'offesa che aveva fatto questo parlamentare. Quando siamo andati a leggere il significato, in effetti Ciaune del dialetto picchinese significa brava persona. Quindi tutto il contrario rispetto a ciò che si voleva dire. Ora, rispetto a questa cosa si farà un articolo per dire come è importante, come siano importanti certe cose, come è importante che il dialetto di una parte, la storia, vengano trattate, vengono trattate nella comunità perché in questo modo noi possiamo dire ai nostri figli, alle nuove generazioni, andate vanno perché c'è stata tanta gente che ha lavorato e che ha fatto delle cose per il nostro Paese. Buonasera a tutti. Non so se è riuscito a sentire la mia voce. Si sente? Prima di accettare l'invito a presentare il libro di stasera, mi sono chiesto perché il suo autore avesse scelto proprio me, tra tanti altri più autorevoli possibili relatori, magari originari di questo territorio o del territorio europano in generale, che gli sono amici e che soprattutto hanno una preparazione storica, artistica e letteraria superiore alla mia, che è invece quella proprio di un giurista a tempo pieno e solo a tempo perso di appassionato di storia napoletana. E nella coscienza della mia inadeguatezza ho dovuto concludere che può averlo spinto solo la grande amicizia che da tanti anni lega me non solo alla sua persona e a quella della sua signora la gentile Lidia Onrico, ma soprattutto alla cognata signora Antonietta Onrico, che per circa due lustri ha lavorato al mio fianco, al Tribunale di Lago Negro, in uno dei settori più delicati dell'amministrazione della giustizia. Tra parentesi aggiungo che a Peppe Menzitieri mi unisce anche l'appartenenza al Rotary di Lauria, di cui lui è socio effettivo e di onorario. Ragion per cui, nonostante la mia inadeguatezza, ho accettato con gioia questo compito. Comunque, continuo a sentirmi inadeguata al cospetto degli illusiostri che mi stanno a fianco, l'artinetto Francesco Canestrini, sovrisintendente alle delle arti e paesaggi della Campania, il sindaco Ludovico Iannotti, che vi grazie per la cortese ospitalità. Poi in verità mi sono rincorato pensando che qualcosa da dire al cortese editorio intervenuto, l'avrei trovata, non soltanto perché sono uno di quelli che ha avuto il privilegio di leggere questo lavoro quando era ancora un progetto di libro. Ragion per cui, senza frapporre altro tempo in mezzo, vi dico subito che cos'è per me questo volume. E' innanzitutto un bel prodotto editoriale, perché basta aprirlo per scoprire che è stato curato con enorme pazienza, indiscutibile amore e indubbia competenza grafica. E' sufficiente infatti sfogliarlo per cogliere la perfezione dell'impaginazione e la bellezza dell'iconografia ricca di foto e di dipinti di una nitidezza straordinaria. Peppe è un uomo di grande gusto, ma non me ne vorrà se attribuisci il merito maggiore del risultato estetico alla sua consorte, l'India, docente apprezzatissima di disegno e storia dell'arte e buona tuttrice. In effetti lo meritava il contenuto del libro, che è di alto livello culturale, perché alto il livello culturale dei suoi autori. E' un libro di storia. Non fatevi ingannare dalla modestia esibita nel sottotitolo, notizie di storia, eccetera. E' un libro di storia. Di più, è una miriera di notizie. Contiene una mirile di fatti, dati, nomi, numeri statistici che provare a riassumere sarebbe impresa impossibile. Nessun aspetto è stato trascurato. Non c'è solo la storia di questo territorio, ma anche la geografia, l'antropologia, la lingua particolarissima di antica e nobile ascendenza gallo-italica che il compiando Leandro Enrico ha trattato nel suo insostitibile libro Il dialetto trechinese, la cui seconda edizione è stata curata proprio da Beppe Menzichieri. Ci sono descritti i luoghi, i personaggi più notevoli, le tradizioni popolari, civili e religiose, le bellezze naturali che hanno meritato a questa località il titolo di città giardino. E' dunque un libro di storia locale? Ma possiamo definire storia locale quella raccontata con tanta sapienza in questo testo? Lo domando, non lo affermo. A una prima superficiale lettura si potrebbe rispondere di sì, dato che sin da subito il titolo annuncia che vi si tratta di trechina, della storia, del costume, dell'arte di questa ridente cittadina. Ma poi, a ben valutare il contenuto dell'opera, si capisce che c'è qualcosa in più, di molto di più. E già perché Beppe Menzichieri ha saputo così ben calibrare la microstoria della sua città natale con la macrostoria del Mezzogiorno d'Italia che i due elementi si integrano in maniera così armoniosa che l'una illumina l'altra. Signorini, intendiamoci, scrivere storia patria o storia locale, che dir si voglia, non è cosa facile. Anzi, è difficile. Ancora più difficile puoi scriverla tenendo sempre l'occhio della mente fisso sulle grandi pagine della storia generale in cui quelle locali si inscrivono. La storia locale, in effetti, la si può immaginare come una corrente cassica che scorre al centro e sotto il grande fiume della storia, quello con la S maiuscola, un palmo sotto il pelo dell'acqua, per così dire, e che ne segue inesorabilmente il corso lento e maestroso. Lo scorrere fatale, impresso gli dalla provvidenza, se vogliamo dirla col Manzoni o con altro credente, o il caso per chi segue quest'altra forma di virgolette religione, passatemi la semplicazione, o semplicemente l'agire politico, saggio o folle dell'uomo e dei popoli del mondo. Chi leggerà questo libro, e tutti i tre chinesi dovrebbero farlo, si accorgerà che l'autore ha avuto la massima cura possibile di evidenziare con chiarezza quest'intima relazione tra la corrente cassica della storia locale e la corrente labica, sarei perdita da cittadino vesuviano, degli avvenimenti della grande storia. Ogni accadimento della storia trechinese, o comunque del territorio lagonegrese, è stato calato, sistemato, con precisione della storia del Mezzogiorno. Regno di Napoli, prima, regno delle due Sicilie, dopo l'entità delle repubbliche italiane, tanto per fermare l'attenzione sulla parte centrale del libro. Così che, diversamente da altri libri simili, non ci si trova mai persi, mai smarriti, spaesati in mezzo ad un'arida elencazione di nomi, di date o di fatti locali spiccioli, isolati, avursi dal contesto generale, anche se dovesse trattarsi di fatti e dati di per sé molto significativi. O solo poco significativi, a seconda del caso, ma staccati dal quadro generale dei macro avvenimenti e perciò privi di connotazione storica. Il Mezzitiede non sciorina erudizione d'accatto, ricavata da questo o quell'altro libro, da questa o quell'altra cronachetta spicciola. Il nostro autore in questo libro, invece, ha inquadrato personaggi, fatti, dati, locali, nella grande storia. E non a caso, perché? È quella generale che dà significato e giustificazione ad ogni dato particolare. È così, infatti, che Benedetto Croce, il principe e il maestro degli utili storici del Mezzogiorno d'Italia, fece intendere che bisogna fare, operando lui per primo in tal modo, tracciando la storia di due paeselli, Montedoro e Pescasseroli, due micro storie che volle inserire in appendice alla macro storia del Regno di Napoli. Il Mezzitiede racconta in parallelo alla micro storia, alla macro storia, ho detto, ma non fa sforzo di cultura storica nazionale. Le brevi premesse di storia generale che antepone ad ogni capitolo hanno una ragione d'essere di tutto rispetto. Vale a dire la migliore comprensione del fatto locale che gli sta aggiustando, illuminandolo della luce dei fatti della grande storia. E in verità è un lavoro degno di ogni apprezzamento questo, perché la sensazione che il lettore alla fine ne ricava è di sentirsi doppiamente al ripeto, perché è stato accompagnato attraverso i luoghi, i fatti personali del suo paese da una guida doppiamente illuminata e da una mano leggera da divulgatore di razza. E mano amorevole, perché va da sé, che il Mezzitiede ama svisceratamente questo paese, trecchia, di un amore immenso. E lo ama per i suoi brecci come per i suoi difetti, perché egli sa che la storia si muove zoppicando nelle contraddizioni, come ha scritto qualcuno. Per cui è bene conoscere del nostro passato non solo le pagine belle, ma anche quelle brutte, le scelte illuminate, ma anche quelle sbagliate. Il Peppe Mezzitiede lo ha fatto con oculatezza e discrezione. A questo fine mi pare emblematico il capitolo sul brigandaggio, perché il fenomeno che si presta a un facile popolismo di maniera è da lui trattato con estremo equilibrio culturale, nulla trascurando di bene e di male. Tanto significa che la sua narrazione non è mai banale o prevedente, mai tessuta per compiacere o per contestare. Ed è narrazione schidisticamente piana, godibile, ma non facile, perché frutto di un impegno di studio, di ricerca di tanti anni, spesi certosinamente a scovare e interrogare le fonti, onde in definitiva quello del libro di Peppe Mezzitiedi è una lettura che a dispetti della scorrevolezza non va fatta di corsa o aspizziti, ma centellinata con la necessaria lentezza e continuità, come se si degustasse un bicchiere di vino paesano, dal gusto amabile ma robusto, prodotto da un pochino nobile. Mi avvio rapidamente alla conclusione. si dice che conoscere il passato serve per capire il presente e progettare il futuro. Gli architetti, qui abbiamo una persona che di attenzione ce ne insegna tutti, quindi non voglio rubargli il mestiere. Gli architetti, almeno per fare qualche nome grosso, baciato della gloria, tipo Rezopiano, quando si accingono a progettare un'opera importante, invasiva per così dire, per usare un termine medico, studiano il contesto ambientale in cui andranno a inserire la loro opera. Cercano quelli che si chiamano il genus logi, il genio del luogo. Ecco, ecco, chi dunque volesse, ecco, chi volesse progettare politicamente o anche urbanisticamente il futuro di Trecchina non può prescindere dal genus logi di questa città giardino, ricco non solo di bellezze naturali, ma anche di storie, di tradizioni civili, religiosi e culturali in genere. Perché solo così potrà non tradirne la vocazione. E se c'è un libro che aiuta decisamente colui che cercasse il genus logi di Trecchina, quello è il libro di Beppe Menzitieri, che stiamo onorando, come vedo, questa sera. Concludo, ci sono libri che si possono avere o non avere in casa, senza che risulti alterato il livello culturale della famiglia. E ci sono altri libri che invece ogni cittadino deve possedere e consultare in continuazione, necessariamente per sentirsi parte integrante della comunità a cui appartiene. Ecco, io penso che il libro di Beppe Menzitieri debba essere nella casa di ognuno che voglia davvero sentirsi e vantarsi, dicendola alla maniera degli antichi romani, civis trecnensis summa. Grazie dell'attenzione. Applausi. Parola lei. Buonasera a tutti sono contento di essere qui a Trecchina un territorio che conosco abbastanza bene qualcuno mi ha chiesto se era la prima volta che veniva perché a Trecchina non so quale volta sia ma Trecchina la conosco abbastanza bene e anche il territorio circostante perché il Lagone Grese è un territorio molto ricco non solo di monumenti ma anche di paesaggi meravigliosi e soprattutto di un'umanità molto valida quindi sono contento di essere a Trecchina e in genere Trecchina è conosciuta meno perché uno ci passa però vi assicuro che nella mia mente ha un posto molto particolare perché è una comunità, è una cittadina che ha saputo appunto ritagliare i suoi interessi ha saputo conservarli, ha saputo coagularli anche se in genere si passa per andare al mare oppure si passa per andare all'auria ha una sua connotazione molto molto precisa quindi ha ancora un'identità molto precisa e questo devo dire è testimoniato soprattutto da questo libro dal libro di Giuseppe Menzitieri, di Lidia Orrico e di tutti quanti quelli che hanno collaborato alla stesura devo dire quando Menzitieri e Orrico erano venuti a trovare a Potenza e mi hanno proposto appunto di fare la presentazione al libro e devo dire ero un po' scettico sul suo perché non sapevo appunto le vicende locali non sapevo l'inquadramento storico però poi devo dire mi hanno dato questo allora era ancora una bozza il libro non era ancora impaginato insomma ho cominciato a leggere e devo dire mi sono molto entusiasmato di questo saggio e credo come lo scrivo infatti nella presentazione che sia veramente un piccolo capolavoro diciamo edito ma non tanto dagli autori sono soltanto gli interpreti dell'identità del posto nel senso che hanno saputo fare del libro scusate una specie di romanzo di romanzo, una specie di vicenda interpretata da tutti quanti i cittadini nelle varie epoche tutti quanti i protagonisti e devo dire più leggevo i capitoli e più mi confermavo questa opinione nel senso che giustamente quello che dice il giudice Cirillo è una cosa interessante e in effetti quello che ho ritrovato molto forte nel libro è questa storia locale che consente dalla storia locale questa vicenda locale che consente dal vissuto di ogni giorno di andare poi nella storia quella che noi chiamiamo la grande storia e questa è una conquista inconmensurabile nella storiografia francese i francesi ci hanno insegnato che appunto indagare e studiare le piccole storie delle locali significa poi partecipare e conoscere la grande storia allora questa storia così diciamo veramente precisamente indagata nel senso che Mensitieri e Laurico per la sua parte descrivono la storia diciamo seguendo le varie vicende i vari periodi quindi dagli angioini dalla toponomastica dalle origini dal periodo romano al periodo medievale fino diciamo al periodo borbonico è una storia veramente diciamo indagata ma non per le grandi vicende storiche che sono quelle che poi passano un po' sopra i territori questo territorio certamente può essere considerato in Lago Negrese e la città di Precchia una tessera di un mosaico un po' più grande storico che però fa parte della grande storia dell'Italia la grande storia dell'Europa però significa se io indago le vicende della principessa che fu rapita dal Duca di Semise e altre cose oppure se vado a indagare addirittura diciamo tutta la vicenda del brigantaggio nelle varie diciamo nelle varie vicissitudini che ha avuto nel corso una vicenda tragica per noi medievionali perché quella è stata una vera e propria guerra sociale non è stata una cosa semplice è stata una vera e propria guerra che noi abbiamo vissuto al nostro interno così come le altre vicende per esempio una cosa che mi ha molto entusiasmato del libro la vicenda anche di le connotazioni ma anche diciamo le statistiche sulle sui deceduti sulle sulle pestinenze su tutto quindi proprio una storia indagata molto precisamente anche per per dare insomma la coscienza di tutto quello che avviene in una comunità cittadina allora questa comunità trecchinese penso che che ne esca diciamo veramente diciamo descritta in maniera molto entusiasmante nel senso che entusiasmante in che senso nel bene e nel male nel senso che ci stanno delle vicende che sono come diceva il giudice sono vicende diciamo che possono essere interpretate in un senso negativo o positivo però il fatto che sia una comunità che comunque conserva le sue memorie conserva le sue immagini significa che è ancora viva e vivace e devo dire le cose interessantissime anche che mi hanno molto entusiasmato sono queste del capitolo sull'immigrazione quando sono venuti da me la prima volta dice no ma poi ci sta questo capitolo dell'immigrazione che noi e allora il fatto stesso che ci sia questa comunità che poi andate in Brasile e a fondare questa città Gekie che appunto ha addirittura saputo fondare diciamo delle banche ha saputo appunto istituire il fatto che si pagava a rate insomma pensate che è una cosa veramente interessantissima e bisognerebbe a questo punto ecco che si facesse la storia di Gekie e della comunità trecchinese in Brasile diciamo rapportata a quella di molte altre comunità ne uscirebbe veramente una storia dell'immigrazione veramente importante e una storia un episodio che manca perché io ho inaugurato abbiamo inaugurato non so se lo sapete ma è passato un po' sotto silenzio il museo dell'immigrazione il museo dell'immigrazione della comunità lucana è nel castello di Lago Peso è bellissimo castello si è speso molto la regione finanziata però ecco degli episodi così importanti mancano in questa cosa e certo è una impresa didattica nel senso che serve per spiegare ai giovani agli studenti ma anche a tutti quelli che sono i visitatori che arrivano a Lago Peso che cosa è l'immigrazione però poi la storia dell'immigrazione secondo me va fatta di queste conquiste e di queste imprese che sono state raggiunte e sono state realizzate all'interno della piccola storia ma della grande storia dell'immigrazione l'immigrazione è un fatto importante per questo paese così come il dialetto il dialetto è importante questo dialetto gallo italico di cui io vi dirò avevo sentito parlare molto così ma è molto interessante approfondirlo queste basi di questa vita di questo dialetto che risorgono e permanono dopo tante vicissitudine storie e dopo tanti popoli che si sono affastellati e sommati all'interno di queste terre installati all'interno di queste terre è una cosa veramente veramente interessante ma la cosa che veramente mi affascina è poi il fatto che alla fine del libro si parla di queste persone celebri personaggi celebri diciamo che nel bene e nel male hanno fatto la vita del paese allora mi è sembrato di vedere come una rappresentazione teatrale come se questi personaggi spilassero lungo il corso le vie principali di Trecchina e si diciamo dicessero delle informazioni facessero delle cose insomma è proprio una rappresentazione quasi come se io vedessi appunto a teatrale spilare i sindaci spilare non solo i sindaci ma spilare magari quelli che hanno rappresentato i medici diciamo le signore che hanno più rappresentative del posto ma una immagine della comunità proprio viva e vivace e allora devo dire siete veramente fortunati ma e questa è una cosa che io è una considerazione che io faccio per tutta la Basilicata ma è rapportabile anche nella storia locale come è rapportabile per tutta la storia diciamo della locale la grande storia della Basilicata ma anche la piccola storia di Trecchina io ho visto che le comunità sono molto salve lucane nella loro diciamo conservazione dei caratteri storici e molto più che in altre che in altre che in altre situazioni regionali io dico da una regione che purtroppo è disastrata da tante cose anche qui ci sono dei disastri e delle cose anche incombenti insomma che siamo tentando di fronteggiare però qui è più forte la sensazione di essere una comunità con tutta la propria storia e io spero che questa vostra diciamo identità sia rafforzata certo il problema qualcuno mi diceva entrando noi siamo tutti fuori e andiamo tutti corriendo il problema forse grosso dei paesi e della regione basilicata è proprio quello della popolazione io spero che questa diciamo sfida che anche si va diciamo facendo a livello locale ma anche a livello nazionale sul cercare di compensare e di diciamo portare avanti delle scelte diciamo di progresso ma anche delle scelte di conservazione dell'identità si riesce con questa sfida si riesca a fermare questa diciamo questa questa moriglia della diciamo dell'emigrazione si riesca finalmente a fare in modo che queste comunità oltre che vive e vivaci crescano questa è una mia è una mia diciamo speranza ma io spero proprio che sia possibile perché altrimenti scusate se lo dico è inutile che parliamo di petrolio è inutile che parliamo di tutto queste risorse devono cercare a mio avviso di fermare questa popolazione che per me i vostri giovani devono restare qua grazie grazie applausi prego va bene forse è un altro quarto si sente? allora vi saluto e vi ringrazio di essere così numerosi è inutile dire che sono molto ma molto emozionata perché è un appuntamento importante un appuntamento con la storia se volete una piccola storia di un piccolo paese però una grande storia perché è la nostra storia che ci appartiene una storia che in qualche modo diventa un racconto liquido che scorre dal presente al passato o dal passato al presente come ti si voglia naturalmente ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questa operazione culturale ringrazio tutte le persone che sono state prodiche di informazioni e che mi hanno consentito di mettere insieme le tessere di questo mosaico ringrazio in primis il sindaco che ha creduto in questa ricerca ringrazio i relatori che l'hanno apprezzata e hanno usato le parole veramente così indiere per la verità non pensavamo di meritare tanto passando poi allo specifico io penso che bisogna soffermarsi su una parola il ricordo ricordare è un esercizio molto importante perché è un po' come ritornare i bambini e quindi in qualche modo ripercorrere la nostra storia che si è intranciata con le persone che ci hanno preceduto del resto ognuno di noi porta con sé il bagaglio culturale del nostro vissuto il retaggio che ci portiamo sulle spalle come la lumaca la pioggia per quello per il settore di cui mi sono occupata devo dire che è risultato di tanta passione che ho condiviso con tanti miei alunni che vedo anche qui in sala a cui mi auguro di aver trasmesso la stessa passione lo stesso modo di apprezzare questo patrimonio che abbiamo un patrimonio di cui ci dobbiamo riappropriare che dobbiamo possedere perché è un patrimonio importante come come importante la nostra lingua io ho l'orgoglio di dire che quando penso lo faccio nella mia lingua lo faccio in tre chiese e a questo punto consentitemi di ricordare il mio padre il mio maestro ma anche il maestro di tanti di voi che con pazienza gestosina ha messo insieme le voci di quel dizionario che credo sia un gioiello per tutti quanti noi passando passando poi allo specifico di cui mi sono occupata quindi agli artisti perché il lavoro grosso è quello di mio marito io diciamo che sono una sorta di azionista di minoranza che ho curato solo due capitoli ma per quanto riguarda gli artisti voglio fare mia condividendola una riflessione di Massimo De Calcati il quale sostiene che le tendenze dell'arte contemporanea abbiano in qualche modo sentenziato la morte della lettura ma l'isolamento di coloro che sono rimasti fedeli alla pittura quindi hanno continuato ad essere pittori ricorda l'insuperabile lezione di Morandi il quale in un periodo in cui le tendenze diciamo più importanti tentevano verso le correnti avanguardistiche e sperimentali lui è riuscito ad essere assolutamente anacronistico rispetto alle nuove rimanendo pittore di cose infatti lui dipingeva bottiglie vasi broc fiori e le dipingeva come cifre del mistero dell'assoluta presenza e dell'assoluta assenza passando agli anacronisti di casa nostra io devo ricordare anzitutto Mariano Lanziani il pittore laureata che ha lasciato tanti lavori nella nostra cittadina ma non solo anche nel lagone grese ma anche nel ciletto e la figura di Mariano Lanziani è stata fondamentale per la formazione del nostro Emilio Larocca lui credo che dobbiamo dare un applauso perché Emilio è in mezzo a noi ancora attivo e ci regala come dire dei brani espressive veramente notevoli non cilessime queste emozioni ma il pittore Lanziani ha avuto una formazione anche per la figura di Rosario Carlo Magno finissimo decoratore a volte del pittore a tutto tramico ma anche di suo figlio Aldo Aldo Magamani che si è distinto nel campo delle miniature ma io devo ricordare ancora un'altra persona Franco De Julio un pittore che aveva sposato una trecchimese insegnava su delle belle arti di Napoli e che proprio perché gravitava in quell'ambiente lo stesso di Angelo Brando e di Ruben Santoro e noi abbiamo in sala Tina Polisciana curato il profilo del catalogo di Angelo Brando e questo artista io me lo sono appuntato perché è una riflessione che fa Isabella Valente la curatrice del catalogo dice che non si tratta di un vero impressionismo ma di un adattamento regionalistico che ogni scuola o singolo artista ha fatto dell'idea di impressionismo che a Napoli trovava una sorrispondenza nella pittura bozzettistica di ascendenza morelliana e gli aggiungerei anche paliziana quindi dicevo che questo Franco De Julio ha avuto un ruolo importante anche un influsso sui nostri artisti proprio perché ha portato questa pittura come dire fresca fatta di macchie fatte di impressioni fatte di grandi emozioni dei brani veramente espressivi notevoli cromatici veramente belli e il linguaggio di questo pittore noi possiamo riscontrarlo in Carlo Scandaterre un altro pittore che è venuto a mancare troppo presto quando aveva preparato pensato una mossa per il Brasile e prima ancora aveva organizzato anche mostre in Francia ma devo ancora ricordare Giocondo Bissanti un pittore di cui per la verità conosciamo molto poco perché era originario di Manfredonia era un pittore un ritratista in signe il cui stile è da ricondurre ad Antonio la Messina infatti i suoi ritrati comunicavano proprio il carattere la personalità di questo artista io personalmente ho in casa un suo dipinto di un osso interato che è così burbero che ogni volta che lo vedo mi sta lento quindi un pittore che ha lasciato tracere quindi ha dato proprio lo stile di come si debba realizzare un ritratto e lo troviamo in tanti altri ritrati vedete Tricchina è un paese particolare i trichinesi hanno avuto sempre una grande sensibilità per il bello lo vediamo per esempio da questa bella piazza che è un po' il biglietto da vista della nostra cittadina e questa piazza è dedicata da tante case che si sviluppano tutte nel senso verticale proprio per assicurare più balcone sulla piazza e molte di queste dimure sono degli esempi notegoli di stile liberti o stile 900 altun come lo vogliono chiamare uno stile che è arrivato che si è affermato devo dire che l'ultimo stile che si è affermato in maniera unidoga a livello europeo e non solo negli ultimi anni negli ultimi anni dell'ottocento e nella prima decada del novecento a Tricchina è arrivato negli anni 30 perché è arrivato negli anni 30 perché gli emidrami di Doro i neoricchi che ovviamente saranno costruiti il blasone che probabilmente non avevano si sono espressi attraverso queste belle case queste belle dimure e hanno commissionato ai nostri artisti di cui parlavamo prima l'appellimento dei loro salotti con le dute cucoliche con le due morte e quant'altro e all'epoca era una sorta di stato figlio dell'epoca vedete a Tricchina non esiste una casa le cui pareti sono disaturne tutte hanno i quadri hanno le dà abbiamo orgogli di dire che i Tricchinesi per questa hanno una grande sensibilità passando poi all'altro settore di cui mi sono occupato e i luoghi di porto bisogna ricordare che la comunità Tricchinese è stata sempre ha fatto sempre parte della dioccesi di Policastro la quale a sua volta deriva da quella più antica di Bussento eretta nel V secolo i cui vescovi storicamente documentati sono stati Rustico nel 501 e 502 perché ha partecipato a un sinio romano e Sabazio nel 649 perché anche lui ha partecipato a un sinio romano dopodiché di questa dioccesi si sa molto poco perché nell'VIII secolo i Pizzantini soffrassero parte del territorio dell'Italia meridionale alla giurisdizione romana per unirla al patriarcato di Costantinopole per cui le dioccesi sono soppresse e diventarono le parti monastiche di rito greco di Zantini dobbiamo aspettare a Stefano Papa Stefano IX o decine che dirsi voi a seconda numerazione che con Bolla Papadro il 24 marzo 1058 concede la potestas ad Alfano metropolita di Salerno di istituire di nuovo le dioccesi e quindi abbiamo di nuovo le dioccesi di Policastro però rimane attiva questa dioccesi solamente nel 1079 perché in un primo momento nel 1067 questo monaco Pietro Papa Carbone che era stato incaricato fu contrastato fu cacciato solamente nel 1079 riprese possesso e lentamente con questo Papa si riprese il dito latino sono solo dei piccoli flash sono solo dei piccoli passaggi perché che abbiamo trovato in tante carte polverose di questo archivio di questa dioccesi e non solo ma anche delle dioccesi negli archivi parrocchiali però questi elementi ci hanno consentito di individuare maestranze committenze abbiamo potuto ripercorrere le varie tappe per la costruzione di queste chiese ma una cosa abbiamo percepito abbiamo percepito la la grande generosità dei fedeli e degli emigranti che hanno avuto un ruolo fondamentale nella genese del tessuto urbano di Precchia molte di queste di queste notizie noi abbiamo abbiamo voluto che fossero gli stessi amanuainzi tant'è che anche la copertina porta un manoscritto la copertina è opera del carissimo Mimmo Longobardi in filigrana c'è un manoscritto di quelli più tanti che abbiamo consultato e dicevo che abbiamo voluto che parlassero questi questi sacerdoti perché è stato un modo anche per far vivere il peggio a noi però devo anche dire che tante troppe sono state le mani lezioni soprattutto negli anni sessanta per mancanza di sensibilità non lo so non spetta niente eppure la Costituzione l'articolo 9 della Costituzione c'era già l'articolo 9 tutela proprio il patrimonio storico artistico demantropologico ma forse la Costituzione neanche oggi la si conosce abbastanza per fortuna nel 74 da una posta del Ministero dei Beni della Pubblica istruzione nasce il Ministero dei Beni Culturali con il governo Moro e con il primo Ministro Spadolini e come dire attraverso le soprintendenze in cui abbiamo una rappresentanza istituzionale a mio fianco abbiamo che vi devo dire i baluanti le sentinelli quelle che in qualche modo tutelano questo paesaggio e grazie a loro io ringrazio loro perché dopo il terremoto dopo il degrado in cui erano finite queste queste chiese hanno riamuto lo splendore che una volta avevano mi fermo qui non lo giro alto perché perché il libro va letto e perché io mi auguro che come dire la lettura di questo libro incroci il vostro desiderio di conoscenza di questo patrimonio che ci hanno rappresentato tante generazioni che ci hanno preceduto ma vi assicuro gente semplice ma di gran cuore vi ringrazio applausi si sente così sì no io quest'altro ho preso appunto perché dato che il libro è 450 se mi metto a scrivere tutto faremo un mattino quindi fate pazienza vi leggo qualche appunto proprio per fare presto nella antica grecia come molti di voi sanno si identificava tutto tutto ciò che era la vita del buono la vita la morte i sentimenti eccetera e tra questi c'era una dea che era qui in Kenya era Mnemosine Mnemosine era la dea della memoria quindi rappresentava la memoria ed era Bibbia di Crono che era il dio stellato del ciclo e della terra che era Gea quindi la memoria nasce dall'universo allora la memoria ed era sorella del tempo quindi non si poteva avere la connessione del tempo se non ci fosse stata la morte Mnemosine si unisce a Zeus padre degli dei e degli uomini e da quest'unione nascono nove venture che sono le nove mose le nove mose non sono altro che le nove parti in cui gli antichi greci intendevano la autura e il sapere ed erano Talia Rio Calio L'Uterpe eccetera eccetera e ognuno di loro aveva un rappresentava una branca del sapere quindi il sapere viene dall'amoria l'amoria viene dall'universo ora se noi non abbiamo la memoria non sappiamo non non conosciamo il 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 mio modesto lavoro è quello di Ligia vuole far ritornare a tutti quelli di noi da Talamoria quello che magari molti di noi non abbiamo non sapevamo prima perché non abbiamo avuto né le fondi né chi ce l'ha spiegato io dicevo già nell'approvazione che nell'introduzione perché anche se i nostri allenati avessero voluto scrivere non sapevano scrivere loro lavoravano soltanto le pecore le pecore salve quindi questo è stato un motivo in più per non avere tutti quegli elementi che poi siamo andati a recuperare ma non non siamo andati a dare ma vedete quando non ho l'entra poi vado un po' per casa la storia quindi dicevo è memoria la memoria ci dà la nostra identità ci dà la nostra capacità la consapevolezza ora il nostro lavoro quindi vuole essere proprio la consapevolezza di quello che noi siamo salvi per poter poi conoscerlo bene e trasmetterlo ai nostri tipi con la esperienza che intanto ci siamo il lavoro parta dal novecento dopo Cristo da quando siamo riusciti ad individuare il primo elemento il primo lato storico che desana il principio di Suffo di Salerno è un principio con barba che rafforza un costello un po' distrutto e si ferma poi agli anni sassanti diventa cronaca e la cronaca ancora la possiamo leggere così giornale dunque noi diciamo come è eseguito il paese in oltre mille anni di storia perché il primo nucleo sorse lungo il fiume non c'è sopra una collinetta inaccessibile come poi si spostò sul castello attuale come poi dal castello si costruì questa piazza immensa che è sproporzionata ancora oggi rispetto al numero degli abitanti tutte le vicissitudini dei cittadini nei vari secoli perché noi abbiamo diviso il periodo in periodi storici ma sono tutti quanti periodi di dominazione noi siamo stati dominati fino all'unità d'italia io direi addirittura fino al 1946 quando è stata proclamata la Repubblica perché anche il periodo sabbarato in effetti ci siamo stati considerati più colonia che parte integrante di una nazione unita e da allora che abbiamo preso forse consapevolezza di noi tutto quello che c'è dentro forse lo ignoriamo un pochino una parte fondamentale molto importante per noi è stata quella dell'emigrazione su cui ci siamo soffermati un po' più perché nei primi anni nella fine dell'ottocento e negli anni 20 e 30 del novecento emigrano centinaia di persone tant'è che questo questo ragazzo che emigrò parlò di Giuseppe Rodondano uno dei tanti che emigrò prima in Portovaldo poi del Portovaldo andò in Brasile girava con un muro e con uno schiavo per vendere e per barattare le cose più impensate di questo punto finché è ben induito di avviare un'attività in un incrocio ai confini in una salana e porcini con la foresta e lì lui riuscì a fare adattare un commercio noto tant'è che chiamò anche altri cittadini da Tricchina e dopo una ricettata forse erano 150 le famiglie trecchinesi che andavano lì e così come c'è una città perché lui comprava terreni gli faceva gli dava in connessione ai trecchinesi li finanziava e gli faceva produrre quello che loro sapevano produrre in quel particolare terreno per cui diventò una grande comunità e questa cosa durò almeno per 50 anni finché poi ci fu la concorrenza perché non arrivarono poi le banche eccetera però l'interno è ripetentata una città una grande città che praticamente era più trecchinese che che il brasiliano e tutto questo ci ha comportato quello che sta dicendo lì anche una mentalità poi diversa perché la gente che si è arricchita è venuta qui aveva girato generando il mondo aveva girato prendevano le navi per viaggiare quindi si fermavano una corte 3-4 giorni e quando arrivavano avevano una cultura di vita che era straordinaria questo è il motivo per cui si svilupparono le case in un certo modo per cui la gente si 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 acculturò se andavano a Napoli a vestirsi al teatro eccetera eccetera un altro periodo importante triste per noi è stato quello dell'invasione napoleonica che poco si conosceva noi non conoscevamo niente perché non abbiamo trovato documenti che prima non erano conosciuti qui tra tra le fuggilazioni e le riccagioni che facevano i francesi particolarmente se li portavano a Napolino e li ammazzavano lì e tra quello che facevano poi i cosiddetti briganti anti-francesi trecchina divenuti oltre 200 abitanti dopo la realizzazione francese e quindi poi ci fu anche qui ci fu i carbonari ci fu i patrioti cose che finora non non conoscevamo allora poi abbiamo parlato di quelle cose delle lotte politiche per esempio degli anni 40 tricchina che in parte io ahimè ricordo perché ero bambino ed erano le prime prove della democrazia ora non si fanno neanche più convinti ci si riusciano così in una sala e si discute e ci si presenta per chiedere il voto allora erano c'era un'intenzione enorme mi ricordo quando c'erano le elezioni proprio perché la democrazia la stavamo conquistando un poco per volta ebbene tutto questo non l'abbiamo fatto per amore del nostro paese ma per per darlo i giovani perché noi siamo convinti che soltanto se i giovani è stato detto più volte questa sera sanno da dove vengono hanno la consapevolezza di quello che sono e potranno fare poi quello che noi non abbiamo voluto fare che potranno essere certamente migliori di noi e potranno migliorare in quello più questo paese che ne ha bisogno io in ultimo volevo ringraziare anche io il sindaco che ci ha dato tanta fiducia nel portare avanti questo lavoro e poi il dottor Cirillo che mi è stato molto vicino è stato quasi un editor lui poi è molto molesto quando parla di sì il sovrendimento che è stato è stato veramente squisito NN vuole fare la presentazione NN essere qui stasera ringraziamo tutti voi che avete avuto la presenza di ascoltarci fin qui e speriamo soltanto che questo questo tempo che lo abbiamo fatto perdere lo riscattiamo se vuole direte il nostro libro perché certamente lo vedremo delle cose interessanti io vi ringrazio ora se c'è qualcuno che vuole intervenire perché a noi ci ha detto molto questo che qualcuno ci facesse domande per approfondire tutto quello che si ha detto questa sera e il dottor Cirillo farà da moda vi ringrazio allora sentiamo il suo intendente che ci dica qualcosa sì sì soltanto la professoressa Rigo mi dà ringrazio di aver parlato del ruolo del ministero in questi in questi anni ma purtroppo come questo ve lo devo dire con la massima sincerità questo è un periodo drammatico per il nostro ministero perché ci stanno in corso delle riforme che non sono diciamo molto condivise dal nostro dal nostro gruppo diciamo di storici dell'arte vedrete che spulciando tra i giornali tra le televisioni tra i vari canali oggi era proprio la giornata in cui si diciamo queste rimostranze queste proteste venivano fatte a Roma c'era addirittura una manifestazione il perché in pochissimo tempo per non sottrarre poi il tempo alla discussione si teorizza si è stato si teorizza no è stato diciamo approvato il fatto che ci sia un sorprendente unito allora questa è una grande svolta nella storia del nostro ministero alcuni hanno detto che l'istituzione dei beni culturali con le varie sovrintendenze è essa stessa qualcosa diciamo è la nostra storia adesso in barba a questa storia il sovrintendente sarà un sovrintendente unico voi sapete bene che le sovrintendenze erano di vario tipo c'era la sovrintendenza i beni storico-artistici che si occupava di tutto il patrimonio importantissimo locale non locale delle schiese anche dei patrimoni dei privati e invece poi c'era la sovrintendenza archeologica che si occupava dei beni archeologici e la sovrintendenza per i beni architettonici e il paesaggio in primis in un posto come la Basilicata dei beni architettonici certo ma il grande patrimonio della Basilicata secondo me è il paesaggio ma questo purtroppo oggi diciamo subirà un grave diciamo vulus perché il sovrintendente è unico ci sarà il sovrintendente unico il sovrintendente che supera i beni storico-artistici paesaggistici e andrebbe anche bene questo ma se ci fossero sia le risorse sia il personale pensate che una regione come la Basilicata che ha dieci musei archeologici nazionali quindi di livello nazionale attualmente ci sono pochissimi archeologi quindi il sovrintendente archeologo che andrà cioè il sovrintendente unico che andrà a occuparsi dell'archeologo tra un po' non avrà funzionato quindi il patrimonio archeologico della Basilicata non si sa chi lo deve costruire lo stesso vale per gli architetti che sono pochissimi tra un po' resterò solo io gli storici dell'arte non ci sono allora l'unica riforma importante che poteva fare nel nostro mistero era prendere tutti i giovani che stanno studiando beni culturali archeologia architettura e metterlo agli autorari questo che è un patrimonio enorme vanno proprio nella demolizione di un'istituzione che invece nonostante tutto ma il bene e il male comunque ha consentito la conservazione di un patrimonio che è quello italiano che è uno dei più importanti del mondo ma perché lo dobbiamo perdere? scusate allora adesso secondo un suggerimento di Peppe Mizziti ci dovrebbe essere un dibattito e io dovrei fare da moderatore probabilmente ancora una volta sbagliato a scegliere la persona soltanto se pensiamo al fatto che una orse diceva che la storia è un processo al tempo io come ex presidente di tribuna potrei dire questo processo al tempo però vorrei sollecitarvi a intervenire perché i vari interventi da quello che è sottoscritto a del sindaco dell'architetto subreddente e così via hanno portato alla vostra attenzione una serie di problemi che sono come dire hanno trovato radice nel racconto del libro di Lidia e di Peppe Mizziti ma riguardano la nostra stringente attualità Lucana in particolare io così per cui si è preso degli appoggi adesso sto verificando che almeno quattro volte siamo intervenuti in quattro a parte è stata ripetuta la parola emigrazione emigrazione e addirittura è stato detto che l'emigrazione stravolge la nostra identità è vero è vero ecco poi si è fatto cenno al al petrolio al petrolio che è un problema distingente attualità non vorrei portarvi fuori dal discorso del libro della storia eccetera però abbiamo detto che chi conosce il passato lo deve conoscere in funzione del presente e dalla progettazione del futuro ecco parliamo del presente e del futuro di queste zone le ultime pennellate sarei per dire a colori scuri cariche di pessimismo del sovrintendente ci fanno capire che possono questi colori trasformarsi in colori lieti possono queste situazioni cambiare perché ci sono dei settori ancora da occupare e guarda caso proprio nel settore culturale nel quale noi siamo fortissimi noi milionari in generale ecco vorrei stimolarvi su questi argomenti se lo volete oppure che vi devo dire la comunità trecchese in Brasile il petrolio già ve l'ho detto e così via le chiese le pitture locali qualunque cosa ecco perché cominciamo chi ha il coraggio di buttarsi per primo benissimo benissimo puoi pure parlare del microfono perché l'acustica non è proprio oltre in questa sala spero che sentirete io accetto io sono stato sindaco di questa comunità dal 2001 al 2006 e ho avuto l'onore e il piacere di andare con una delegazione della Basilicata nella città di Giacchieco di l'arte dei trechinesi e ho ricambiato una visita di cortesia che l'allora governatore Romanto fece a Trecchina nel lontano 1963 io ho ascoltato con molta attenzione e ringrazio Giuseppe Fidi amici carissimi persone molto vicine a me anche per trasmorso di professionali che hanno dato veramente un tocco di classe anche nel libro perché ho avuto modo di discorgere di leggere così attentoni però vorrei occultare il mio contributo moderatore sulla emigrazione un bevino incitato che ho visto tra gli amici che sono venuti il notario rotondario un suo antenato che ha aperto praticamente la strada a fine dell'Ottocento perché c'era momenti molto tristi e io non faccio fatica a dire che questi momenti sta vivendo l'Africa e noi siamo stati certamente abbiamo avuto delle difficoltà però piano piano chi ha voluto si è inserito Dolso di Mulo Casa Confianza che cos'è la Casa Confianza era la intuizione di questo nostro caro penato rotondano che ha corollato attorno a sé tanti cittadini di tre che è Giuseppe 150 certamente tanti gli avuti piacere andare a vedere dove era proprio la confluenza come ha spiegato Giuseppe di un rio con delle montagne dove gli indios venivano e scambiavano barattarono i chiodi con i prodotti che avevano e lì piano piano queste città di 200 abitanti quando sono andato io contava 250.000 abitanti dove c'era un museo di ricordo dove io ho potuto vedere delle cose stupende meravigliose la lavorazione del catalogo la lavorazione del caffè e delle immense diciamo estensioni dove c'erano i cittadini oriuti trechinesi che avevano dato l'ustro i grillo che aveva incenso grillo l'aeroporto l'intestato e non solo lui ma anche il commercio e io ho avuto così insieme all'epoca responsabile dei locali nel mondo ho avuto presente una sensazione come se i cittadini delle Marche dell'Umbria dell'Azio erano invidiosi dei locali che avevano ancora il sentimento il piacere di andare a vedere i locali che avevano fondato quella realtà e quindi ci chiedevano ma perché non lo dite che vengono fuori delegazioni nostre e io non ero solo del comune di Trecchi non c'era la delegazione di potenza la delegazione della regione quindi era corposa e siamo stati accolti in maniera stupenda dove con i nazionali addirittura noi siamo rimasti sbalorditi dall'affetto ma soprattutto dal desiderio di quella gente di vederci quella gente che voleva avere il contatto ancora con la propria terra che non vedeva l'ora di rientrare e abbiamo fatto anche un gemellaggio allora Ludovico che adesso è il nostro bellissimo sindaco e il mio capogruppo quando tornai mi chiese cosa avevamo fatto e noi abbiamo mandato dei soldi per comprare grammatiche italiane il desiderio di imparare l'italiano loro volevano conoscere l'italiano non solo il portoghese abbiamo fatto un gemellaggio abbiamo avuto diciamo tante soddisfazioni ho portato tante testimonianze ma soprattutto mi è rimasta nella mente proprio questo desiderio strugendo dalla parte questo desiderio di venire ma non avevano molti fondi allora si è pensato pure a delle corse di studio presidente Cirillo cioè di far sì che questi ragazzi volenterosi benitevoli potessero venire un'università medica io sono un medico come tutti sapete la maggior parte sapete io ho avuto il piacere di parlare con dei docenti dove c'è una croce rossa brasiliana all'avanguardia dove in effetti un servizio sanitario nazionale non esiste però c'è per tutti nelle grosse città di tipo cecchieri perché mi ripeto se cecchieri per arrivare a Salvador del Paese ci vogliono 40 minuti di aereo non è una cosa vicina allora si andava addosso di nulla quante giornate Giuseppe ci voleva una persona che visitava tutte le Santa Caterina e tutte le altre che sono limite allora non tiriamo a lungo Presidente perché gli altri vogliono intervenire questa testimonianza è per dire che quello che Giuseppe Amide e così amorevolmente hanno scritto io l'ho toccata con mano cioè sono andato personalmente a verificarla e porto una testimonianza di persone che tuttora hanno desiderio ripeto struggente di venire a trovare di nuovo la nostra loro terra la loro cana Italia e nella riunione che facevamo al Casitalia alla fine alla presenza di 2500 persone il sindaco dell'epoca Brito Samos che era un ortopedico c'erano 4000 mi disse c'era con me il capogruppo che mi ero portato il dottor come si chiama Colavano mi dice ma sindaco ma cosa sono quelle cose che vediamo sono delle testine nere che si vedono mi chiamo Brito sul momento vicino mi disse in portoghese perché non telefono e ti riporti 4000 di questi bambini le distribuisci in basificata riporti almeno in terza media e poi non ci veniamo a riportarli qua perché non abbiamo gli spazi per farli studiare perché inauguriamo una scuola e lo dico così perché molte volte noi siamo un po' siamo molto temeri per certe cose la scuola lavora dalla mattina alle 6 fino alla mezzanotte due ore per bambino 40 per aula e facevano a botte perché doveva entrare per prima in questa scuola qui ti danno tanti conti cioè non sono mai contenti ma questo è un mio pensiero che certamente sono da questo io vi ringrazio e mi chiedo scusa a capare un calcio ha rotto il ghiaccio quindi ci aiuta a continuare mi piacerebbe che intervenisse un giovane o una donna perché no un giovane proprio allora buonasera a tutti io volevo innanzitutto condividere ciò che diceva il sindaco in quanto la valenza anche pubblica di questa iniziativa il fatto che il sindaco diceva nel patrocinare questa presentazione quest'opera è l'opera pubblica più importante che abbiamo mai fatto e questo per noi cittadini di Trecchina è sicuramente vero dopo volevo innanzitutto ringraziare non si sente? più bassa di solito mi dicono che c'è un tono di voce basso ecco cercavo allora dicevo innanzitutto grazie a Giuseppe grazie a Lidia per questo lavoro veramente che ci consegna un patrimonio a mio avviso di un valore inestimabile io ricordo Lidia Giuseppe sempre come persone attente a questi temi e sempre persone che hanno dimostrato l'amore e l'attaccamento per questa terra mi ricordo nel 2003 quando insieme ad altri due miei compesani con cittadini fondammo il sito di Trecchina trecchina.info quando avvertimmo poi l'esigenza di trovare delle informazioni storiche e culturali non ci fu dubbio sulla fonte andammo a casa di Giuseppe e di Lidia perché eravamo certi che lì avremmo trovato quello che cercavamo e subito ci misero a disposizione il materiale certo questo materiale poi è stato oggetto di riprese è stato oggetto di nuovi studi e la valenza di questo lavoro è proprio un sangue in questo nell'aver recuperato fondi che hanno una valenza storica e che ci consentono di di appurare con certezza i fatti che sono che si sono che si sono sorti nel passato e poi ho parlato in alcuni interventi della delle modalità di fruizione innovativa di questo sapere che secondo me devono riguardano sia riguardano diversi aspetti della nostra della nostra comunità riguardano ad esempio che so le nuove modalità con le quali gli studenti nelle scuole locane nelle scuole di trecchina si usate potranno apprendere la storia spesso si apprende la storia partendo dai fatti generali ed arrivando semmai con questi approfondimenti a fatti locali invece si potrebbe potrebbero essere questi stimoli per partire da fatti locali che sicuramente incuriosiscono di più il colui che studia questi fatti perché sono proprio a ridosso della della propria quotidianità e da questi fatti locali stimolare poi la conoscenza di fatti che sono più più generali che riguardano quello che si dice appunto la la grande storia e anche in questo libro in particolare il fatto che ha coniugato la storia locale con i temi l'ha inserita in sotto comunque dei temi più più generali quindi parlo anche ad esempio delle manifestazioni culturali possiamo immaginare oggi una manifestazione di vocazione storica che finalmente possa recuperare e ripercorrere fatti realmente accaduti mentre invece spesso possiamo cioè non abbiamo avuto modo forse perché le fonti non erano complete o comunque certe o comunque eccetera vabbè non abbiamo avuto modo di poterla di poter realizzare e poi dal punto di vista io penso di rappresentare dal punto di vista di molti giovani e sincero grazie proprio per questa opera che ci consegnate che in un certo senso ci consente anche di rispolverare un orgoglio di noi trecchinesi perché è importantissimo oggi l'emigrazione c'è ancora ecco diciamo che rispetto a prima che i nostri migranti ci davano come dire anche risorse economiche ci consentivano in questo territorio di costruire case di risollevare l'economia oggi non è più questo l'economia del territorio è più sviluppata e noi sinceramente non abbiamo risorse per costruire case e quant'altro però possiamo dare un apporto sicuramente di idee al nostro territorio e soprattutto grazie per aver risponderato questi cioè questo senso d'orgoglio di appartenenza quella nostra storia ci consente di fare bene come diceva anche Giuseppe e meglio quella che è la nostra attività anche fuori dal nostro paese e questo mi è capitato spesso di sentirlo e di scuterlo con i miei conterranei quando facciamo grandi cose anche fuori da questo paese ciò che ci spinge e spesso ce ne rendiamo conto a fare anche cose fuori dal comune sicuramente la erradicamento in questo territorio nel proprio territorio in generale cioè la forza che ti dà l'essere venuto da un territorio anche difficile ti consente di fare poi grandi cose anche all'esterno e oggi le possiamo fare con una consapevolezza ancora più ampia di ciò che l'avamo quindi questo è il nostro grazie io voglio dire solo questo che ti ringrazio per quello che hai detto il nostro obiettivo era quello che questo libro raggiungesse i giovani tant'è che con Lidia ci siamo concordati di fare un incontro soltanto con i giovani per parlare di questo libro e quindi di tutta questa cosa che che questa sera abbiamo soltanto a cercare di fare un incanzi ti prego di diffondere questa questa iniziativa e vedremo poi in seguito incontrarci per poter vedere come organizzare un incontro con loro per discutere di questi e quindi per dare a loro una maggiore contribuzione grazie applausi 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 innanzitutto buonasera buonasera io vorrei leggere una lettera aperta ai miei amici Giuseppe e Lidia un'amicizia che coltiviamo da 40 anni i film sembrano pochi bene questo per me e per voi soprattutto è un pausto giorno pausto e importante perché un Pildo amatissimo di Trecchina come te è Pildo amatissima come te presenta nella propria comunità un'opera di carattere storico e non solo nato da un progetto lungamente pensato accarezzato e finalmente realizzato attraverso studi ricerche consultazioni di documenti che hanno richiesto un impegno continuo costante perseverante direi una tenacia e una fede in voi stessi che non è mai perduta meno e convivo con piacimento e intendo congratularmi esprimendo al di là della nostra quarantennale amicizia un vivo senso di ammirazione e di stima per il compimento dell'opera da considerare un dono non solo per noi ma per tutta la comunità e aggiungo per tutti coloro che desiderano consultare sono e siamo tutti in attesa di percorrere le pagine del vostro bellissimo saggio che solo tuo non è caro Giuseppe ma che vede stupenda e competente collaboratrice la cara Lidia Enrico tua sposa impegnata in uno studio meticoloso sugli edifici pubblici e sui luoghi di burto nonché sugli artisti trecchinesi mi sia consentito una breve considerazione di carattere generale che riguarda l'aspetto storico del vostro saggio la storia ci abitua a cogliere il vero senso delle civiltà passate nel loro divenire ci abitua a trovare linee comuni le strade invisibili lungo le quali camminano le vicende umane a scoprire l'uno nel mortello a capire che la realtà è più complessa di quando non sospettavamo ad essere guardinca dai giudizi immediati perché spesso sono soltanto come minimo segno di banalità di pensiero la storia ci dà il senso della continuità infatti istoria sicut natura non paci tis autos all'inizio della stesura della vostra opera avrete certamente pensato che non solo è importante recuperare la lezione della storia ma soprattutto attingere alla storia della propria gente del proprio paese recuperare alla memoria la storia del proprio paese è senza ombra di dubbio un atto di amore che accomuna la gente nella coscienza del patrimonio comune costruita da tante generazioni testimonianze della ricchezza e varietà del carattere del gusto dello spirito dell'unità fondamentale del temperamento questo amore nasce spontaneamente al ricordo dei dolori e delle gioie delle vittorie e delle sconfitte per cui le generazioni precedenti legate le una alle altre da vincoli comuni sono passate e ciò sta a dimostrare una causa che trascende il singolo è la durata della vita umana ma è necessario che questo vissuto comunitario sia consapevole cioè storicizzabile i vostri non 25 lettori sono sicuri che avete adottato un severo metodo storico sulle fonti a cui avete attinto i dati verificandone l'autenticità di volta in volta e utilizzando i documenti con lucida razionalità l'amore per la verità insica nella storia e l'amore per la vostra gente anzi la nostra gente e la nostra terra sono dunque le due motivazioni alla base del vostro magnifico salto che a mio parere costituirà un punto di riferimento per le nuove generazioni e poiché il vostro senso critico è sinonimo di onestà scientifica ha un alto valore pedagogico e incrementerà la cultura del territorio e l'interesse per le vicende storiche di cretino per finire mi impasso di cogliere nella tua bellissima introduzione caro Giuseppe la formula insica nella narrazione e gli avvenimenti che può essere così riassunta emozionare ed emozionarsi ricordando il passato al fine di realizzare il processo di immedisimizzazione che tramite la memoria aggregante coinvolge lo scrittore e il lettore concludo convenendo con la tua nota di parisiana memoria che un paese ci vuole un paese ci vuole perché noi abbiamo bisogno di appartenere a un luogo a una comunità siamo come i vivi di una grande di un grande canovaccio di una grande tela e non possiamo da soli rappresentarci ma soltanto nella unità e diremo oggi con un termine tecnologico dobbiamo essere tutti in rete vi ringrazio e vi ci sono spavoli grazie 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 ma non potevo non intervenire e con grande emozione se sono tra di voi sono venuto per Giuseppe e Lidia e per tutti gli amici che sono qui dentro sono almeno 15 anni che non metto a dire a tre motivi purtroppo tristi ma è una serata bellissima per ritrovare Giuseppe per ritrovare Lidia questo è un domenico il nostro presidente si grazie e tanti amici che sono tra di voi che conosco tutti quanti qualcuno mi ha fatto i capelli bianchi in più nomi i miei non potevo non dire la mia gioia e la mia emozione il libro di Giuseppe di Lidia non mi sorprende quando sono arrivato in questo paese non lo conoscevo vengo da lontano però l'amore per tre chi ne me l'hanno trasputo loro la conoscenza di quello che io so di Trecchina vennero trasferito loro parlando sempre con amore con affetto di questo loro paese questa loro cittadina e io amavo e amo Trecchina è una cittadina che è un amore accogliente ospitale e quindi è un piacere stare qui credo che Lidia e Giuseppe abbiano fatto un'opera eccezionale nel mettere insieme il loro amore per Trecchina mettendolo per iscritto e trasferendolo ai posteri ogni cittadino di Trecchina di futuro avrà un riferimento certo per conoscere la storia del suo paese io vi ringrazio di cuore a tutte e due e vi abbraccio Allora una voce femminile la vogliamo sentire una voce femminile se poi fosse giovane anche sarebbe ideale Buonasera sono molto breve allora grazie lo sarò alla fine e gli ingerziamenti e la cosa importante di questa sera è che questo libro è fatta la grande bellezza di Trecchina ed è infatti non diciamo non nuovo perché Trecchina come diceva il sindaco all'inizio è stata colonizzata è vero in all'italice nell'idioma della lingua ma portava esportato fuori diversi prodotti la scuola vittorica trecchinese il dialetto trecchinese le banisterie trecchinese la pasticceria trecchinese i prodotti da forno per gli inglesi il professor Cappelli dell'Università della Grazia dice che i primi a partire quando ci sono le migliorazioni di forno non era mai il livello nemmeno in trecchina oggi abbiamo Maradea il ministro nella Colombia di Maradea quindi abbiamo delle affinità noi abbiamo colonizzato diceva prima Beppino abbiamo colonizzato il Brasile quindi abbiamo fatto un lavoro a riprodusso e in questo racconto liquido che voi avete fatto che ancora oggi diciamo l'idioma vive perché noi abbiamo un personaggio di tempo che canta crozzi che parla in dialetto che racconta in dialetto diciamo troviamo l'eccellenza che esaltava anche il giudice prima questo libro che è da una certa di una grande natura intellettuale ma che non dimentica le storie minime minimali quindi è questa la grandezza di questo libro secondo noi e dobbiamo conoscere tutti i lati postiti l'altra cosa che volevo dirvi è che Beppino ha giocato un ruolo che è stato favorito dalla Nazione Napoleonica quando Lauria ha perso perché naturalmente si è opposta alle truppe di Bassena Trecchini aveva le perdure quindi ha recitato un ruolo se c'è la stazione dei Carabinieri forse che c'è stata nel passato quella della fuoriostare è perché Trecchini aveva questa forza diciamo morale pensate uno Schettini la scripente Schettini che è stato il lettore della storia magistrale di Napoledio quel morto in carcere cioè di persone che avevano una grande natura morale e quindi diciamo che abbiamo dei personaggi che hanno fatto la storia era veramente eccezionale De Gregori dice che la storia siamo noi quindi sia piccola che grande è molto importante non c'è l'albitretto De Nostini che è qui non è ancora dobbiamo difendere i palazzi libertini che abbiamo che abbiamo dobbiamo difendere quello che c'è in questa zona i musei noi abbiamo due musei che sono diciamo sotto utilizzati sotto valutati che non conosciamo neanche noi i musei di archeologia subacqua e di Marpega quello che tra noi c'è l'auro indigene di Ribello quindi dobbiamo lavorare e difendere con le uniche non dobbiamo far strappare questi presidi culturali dalle chiese scusa dalle chiese a quelle che sono diciamo gli elementi civili di questo territorio questa sera ho scritto un'altra pagina di storia e dobbiamo ringraziare chi la si vede allora può funzionare vicino io non non posso intervenire sul merito perché purtroppo non ho avuto l'occasione di leggere l'opera però da da quello che mi avevo mandato ho capito che si trattava di un'opera diciamo io detto omeni sbagliando di rossa che abbracciava la storia di Pecchina dagli uizi mi sembra che parte traggiando avanti Cristo con le nuove decente ma non ci non chiamiamo in queste cose volevo complimentarmi con te e con Lidia per il lavoro fatto non soltanto ponderoso ma che affronta davvero tutti gli aspetti di questa cittadina che è una storia molto molto lunga io non ho ascoltato con interesse anche quello che ha detto il sindaco e per il ragazzo di Precchina mi voglio complimentare anche con lui cioè che questa è davvero una delle più grandi opere che si possa compiere in una comunità ma oltretutto si tratta di un'opera che non è detribile che non è distruggibile è un'opera che è perenne c'è un'opera che resterà comunque anche quando resterà soltanto un libro stampato è un'opera che resterà nella vostra comunità e che servirà a tutto anche alla regione di generazione per capire da dove vengono per capire quali sono le radici per capire le vicende che vi hanno portato ai tempi nostri ai tempi omogenei è normale però che qualche considerazione di carattere generale ha fatto con questo libro il cittadino di Trecchina conosce finalmente o forse la conosceva già prima non solo di Trecchina non so dirlo conosce quelle che sono le vicende storiche che hanno portato alla fondazione allo sviluppo diciamo alle vicende che poi ci hanno colpito anche come l'immigrazione dove si parla ampiamente conosce queste cose però la considerazione è una di carattere generale cioè il libro il ricordare il sapere quali sono le nostre radici ci deve portare a riflettere sul futuro perché se ho capito bene i libri si arriva agli anni sessanta giustamente dagli anni sessanta e poi la possiamo considerare una buona cronaca però forse è la domanda che ci dobbiamo portare perché dagli anni sessanta in voi Trecchina come tutti i paesi dell'azienda diciamo i paesi della Pasquale hanno avuto questo declinio declinio che è un declinio economico sociale culturale non dimentichiamo la voglia iconoclastica degli anni sessanta che ci portava a trascurare anche i monumenti ci portava a trascurare gli oggetti di casa gli oggetti che ci ricordavano forse perché ci ricordavano la povestità cioè voglio dire che qualcuno studiasse queste cose ma soprattutto dobbiamo capire perché con la nostra storia non siamo riusciti ad avere un sviluppo accettabile e abbiamo dovuto mandare i nostri cittadini a cercare lavoro all'estero e con le conseguenze che tutti conosciamo nei nostri centri stradini sono disabitati ormai siamo rimasti veramente in bocchi ed è difficile anche fare sviluppo con la popolazione attuale che c'è anche se stranamente se ci possono dei finanziamenti voglio dire molte volte essere ottimisti diventa davvero difficile quindi il libro la storia la nostra storia ci deve portare a riflettere sul futuro se no è soltanto un bel esercizo di memoria che poi è utilissimo giustamente è utilissimo però se tutto questo sforzo io so che tu e lì ci avete lavorato per anni quindi non è una cosa fatta così per casa ci è voluta grande passione ci è voluto fatica ci è voluto anche l'impegno per i mercati fondi che non sempre sono riferiti vicino gli archivi dei barracchi dei nostri comuni che molte volte sono stati distrutti nelle tante rivolte popolare perché ci sono state le seccole quindi dobbiamo capire i motivi e forse dovremmo anche dialogare su che cosa è possibile ancora fare perché volevo soltanto concludere in maniera paralleli a paralleli a paralleli a paralleli ironizzando potrei dire che vi siete costruiti diciamo anche dopo la vostra scomparsa 300 anni un'immostalità il futuro l'immostalità però io che vi conosco bene dico concludo che questa vostra opera secondo me è soltanto l'ennesimo atto d'amore verso il vostro partito allora la voce di Miline ha raccolto i miei libri buonasera a tutti io farò un intervento brevissimo però ho otto l'invito del presidente sono una nota ma non sono un giovane mi schiace io effettivamente avrei preferito che al mio posto ci fosse una giovane di Trecchina e quindi mi dispiace per questo comunque accettatevi lo stesso innanzitutto devo complimentarvi con mio cognato con mia sorella grazie ai gradatori di questa bella serata e grazie a loro che hanno scritto questo libro che so che è fonte di grande impegno di grande lavoro ed effettivamente hanno dato a Trecchina un un grande contributo e ormai potremo effettivamente conoscere meglio la storia di questo nostro paese per ogni intervento voglio rimancare solo una cosa un po' di dispiacere perché io sono di Trecchina sono nata a Trecchina e amo questo paese profondamente però sono dovuta andare via e come me tante tante altre persone tante altre giovani io sono andata via da Trecchina come fanno tanti altri quando sono andata a studiare all'università poi dopo lì ho conosciuto il mio futuro marito e poi non sono più tornata perché logicamente gli studi mi hanno consentito di trovare anche un buon lavoro mi sono diciamo ecosistemata ormai vivo da volte trent'anni a Vicenza è la mia seconda città però permettetemi di iscrivervi questo dispiacere perché devo vivere lontano da Trecchina e quando ritorno qui è sempre bello vedere tutti incontrare tutti però non conosco più le nuove generazioni non conosco i giovani mi piace chiedo ma quello che sa il figlio ha il mio amico al mio compagno in scuola e allora c'è sempre questo un po' questo dispiacere di vivere lontano dal proprio paese e di conoscere le generazioni della mia età però non conoscere appunto i giovani e la Basilicata ecco il fatto che è povera si sta incoverendo di queste forze giovani il presidente io quando vedo soprattutto il giovane come il giovane come Fabio Marcante come che si impegnano per la crescita di questo paese veramente sono molto felice anche se purtroppo vivo via e quindi ascolto quindi mi informo delle cose che succedero però purtroppo quello che noto quello che notiamo tutti anche i precedenti interventi è che la nostra Basilicata in particolare è sempre più povera dei nostri giovani i quali effettivamente si sono tutti molto integrati e anche diciamo che sono stati molto bravi fuori effetti ma sono sempre si sono stati si sono sempre fatti fuori hanno veramente si sono distinti anche nelle attività sia all'estero sia in altri posti dell'Italia però speriamo che questo paese possa avere più giovani possa ritornare a crescere e non invece ancora a impoverirsi di risorse umane e possono ancora farlo più bello e rendono ancora più felice questo posto nostro dell'Italia grazie buona buonasera a tutti io sono Francesco Vittivaldi sono di Lauria non sono di Trecca mi conoscerete qualcuno mi conoscerà sono uno di quei funzionari del ministero beniculturale di cui ha parlato prima il mio sovrintendente Francesco Canastrini sono anche presidente di un'associazione culturale a Lauria che si chiama Amici del Castello Ruggero e la mia preghiera il mio intervento è proprio questo siccome conosco Peppe da tanti anni e lui ha studiato moltissimo la storia della nascita dell'insediamento anche a Lauria vorrei pregarlo di aiutare la nostra associazione a capire di più perché noi abbiamo studiato tantissimo ma non abbiamo trovato moltissime notizie sull'epoca Longobarda cui dovrebbe essere il nostro Castello Ruggero a Lauria lo voglio ringraziare per quello che ha fatto perché il libro l'ho solo visto ma lo leggerò con molta passione perché so la tua passione che hai messo nel libro io ti conosco da tanto tempo e so benissimo quello che hai fatto tu e tua moglie poi voglio dire una cosa da Laurio Lauria e Trecchi hanno molto in comune perché non uniamo le forze culturali perché io credo in una cosa i giovani se ne vanno purtroppo lo so io ho mia figlia che è storica dell'arte non trova assolutamente spazio né in Basilicata né altrove c'ha 32 anni perché non uniamo la forza della memoria perché io credo che i beni culturali soprattutto sono il nostro bene comune essendo un bene comune deve essere un bene di tutti non facciamo solo la storia di Trecchia ma facciamo la storia del mondo la memoria di un popolo con questo concludo è la cosa più importante che c'è senza la memoria non si va da nessuna parte se noi non sappiamo chi era avanti come facciamo a sapere chi sarebbe grazie mille passando prima ho visto che ci sono ancora dei libri lì sul banco mi meraviglio un trechinese per essere tardi a conoscere questo libro deve sapere la sua storia le sue radici quindi sappiate bene che un libro è oggetto di tanto studio tanta fatica ma vive soltanto nel momento in cui qualcuno lo prende e lo vede è chiaro? adesso diamo la parola al sindaco e vediamo di arrivare a conclusione è solo una precisazione noi questo libro con gli autori dovevamo presentarlo già da qualche tempo l'anno scorso abbiamo organizzato prima di Natale addirittura però per una serie di motivi burocratici la burocrazia è un'amenda spesso e molto le attività non siamo riusciti a farla nell'anno vecchio nel 2020 e l'abbiamo fatta stasera in concomitanza con la presentazione delle liste perché per chi non è di Trecchina a Trecchina quest'anno ci sono le elezioni di destra e io quello che sto per dire vorrei che non vi appello alla intelligenza di tutta la classe politica della Chiesa e spero e mi auguro che il tutto non vada a finire nel frittacarne di una strumentalizzazione della campagna elettorale con gli autori da quando noi abbiamo sposato il progetto abbiamo detto proprio perché riteniamo che questa opera è un'opera dei Trecchinesi abbiamo detto un'opera pubblica è un'opera di tutti i partiti dei Trecchinesi noi stiamo valutando la possibilità di poter dare a tutte le famiglie di Trecchinesi per volontà degli autori di dare una coppia del libro a tutte le famiglie di Trecchinesi stiamo valutando questa possibilità speriamo di riuscirla a fare ma io devo parlare poco perché li vediamo solo in campagna elettorale quindi tutto può essere utilizzato strumentalmente vorrei che e ripeto mi rifaccio sempre l'intelligenza di tutta la classe politica maggiorante che questa cosa non andasse a finire in una strumentalizzazione i libri ci sono li abbiamo gli autori ce li hanno dati e quindi io ripeto che non immediatamente perché dobbiamo far passare sicuramente il 5 di giugno ma dopo proprio perché è patrimonio nostro è patrimonio di tutti noi questo libro debba andare in tutte le case delle persone e cercheremo sicuramente di farlo un'ultima cosa Peppino e Pino abbiamo detto che queste sono il primo la prima opera perché Peppino ha l'archivio illimitato e io personalmente attendo in vari approfondimenti rispetto a tutte le epoche che in questa prima opera ha trattato perché sicuramente c'è ancora tanto altro materiale che gli autori possono mettere a disposizione della nostra collettività grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti